Romina Carrisi presto mamma insieme a Stefano Rastelli. Come si sono conosciuti? Romina Carrisi è la donna del momento. Presto diventerà mamma e insieme al compagno Stefano Rastelli, con cui ha trovato la felicità che da tempo desiderava. Ma come è venuto il primo incontro per la coppia? Solo poche settimane fa Romina Carrisi ha deciso di raccontarsi ancora una volta davanti le telecamere di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin alla quale arriverà in esclusiva di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Un sogno che per la figlia di Albano e Romina diventa realtà grazie al grande amore trovato tra le braccia di Stefano Rastelli, regista di successo e che recentemente ha curato anche la regia del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. La coppia ha deciso di uscire allo scoperto sono poco più di un anno fa, mostrandosi insieme al compleanno della Carrisi e non nascondendosi più davanti le luci dei riflettori. Come si sono conosciuti Romina e Stefano Rastelli? Un amore nato sul posto di lavoro, lei già da tempo nel cast degli ospiti fissi di oggi è un altro giorno e lui appunto regista della trasmissione. Giorno dopo giorno il lavoro ha fatto da Cupido alla coppia, dato che due si sono poi innamorati perdutamente. In un primo momento Romina Carrasi e il compagno sempre cercato di mantenere il segreto circa la loro relazione, fin quando certe del loro amore non hanno deciso di uscire allo scoperto e confermare il rumor del gossip che da tempo facevano riferimento a un presunto flirt tra i due. Adesso la coppia sta vivendo la gioia della dolce attesa di un bambino che travolgerà con tanto amore e loro due vite, lui che unirà ancor di più la famiglia allargata di Stefano e Romina dato che regista Rastelli è già papà di due figli avuti dal precedente matrimonio.